Questa è un'iniziativa che mi ha preso un po' alla sprovvista e certo non sono io il massimo esperto di questo tipo di attività, però molto bella, l'iniziativa è molto bella e secondo me sono delle iniziative che fanno bene. Oggi andare, lo dicevamo prima, sulle strade è diventato veramente difficile e a volte anche complicato per la situazione che c'è in questo momento. Questo vuol dire fare ciclismo, vuol dire fare dei tratti di strada sterrati al di fuori dal mondo difficile del traffico e credo che sia un qualcosa di bello. Adesso guarderò bene il percorso ma cercherò di aggregarmi e di fare qualche pezzo anch'io. Una buona iniziativa.